Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E sì, siamo tornati il giorno dopo un video epocale a parlare di nuovo di una 4090. Oggi vi portiamo una 4090 custom, la Gigabyte. Nello specifico il modello Gaming OC da 24 giga. Perché adesso c'è anche da specificarlo quanti giga ci sono. E soprattutto no, non cambia niente, non è un'altra schiuma, è esattamente una 4090 pura e dura. E partiamo proprio da questo concetto, perché chiaramente dopo aver smanfrinato all'infinito quello che è la 4090, quindi facendovi vedere prestazioni, facendovi vedere le temperature e l'architettura e parlandovi di tutto quello di cui potevamo parlarvi nel video scorso, vorremmo andare un pochettino più spediti e concentrarci sulla personalizzazione. Anche perché secondo me conviene, perché noi le cose le spieghiamo, passano due anni, magari si aggiungono nuovi PC gamer, nuove persone che comunque vogliono acquistare, al di là di questo che è un prodotto abbastanza comunque per pochissimi. La differenza tra le Founders Edition e le Custom non è grande, anzi è praticamente nulla lato performance, perché le memorie e la GPU sono esattamente le stesse, vengono fornite appunto da Nvidia. Poi nelle Founders si invida e si fa anche tutto il resto, qua lo fa live di turno, quindi in questo caso gigabyte. Quello che va valutato in una personalizzazione custom non sono le performance che vanno massimo dall'1 al 3% in più o in meno in base poi alle frequenze o ai boost, ma dissipazione, garanzia, overclock, eventuale BIOS alternativo doppio, tutte queste cose qua in più rispetto a quella che è la scheda di base, la GPU di base. Anche perché quello di fatto è quello che c'è montato, quindi cambia proprio solo l'infrastruttura di quello che va... O il PCB modificato. O il PCB modificato. In quel caso lì ci possono essere magari alcune versioni con delle prestazioni in più, ma perché sono frequenze magari più spinte, però solitamente è difficile vederle al lancio, insieme alle prime schede, sono schede che solitamente vengono lanciate un po' più avanti. Ma comunque rimangono quelle lì, magari valgono poi più di punti percentuali, ma perché sono spinte al limite. Esatto, sono spinte, infatti. Queste, le normali custom, ripeto, 1-3%, quindi sono praticamente uguali. Oltretutto, questo succedeva prima quando erano reference. Ora le Founders sono custom a tutti gli effetti, quindi quella che avete visto ieri non è un reference design, ma è già un custom design, quindi non c'entra nulla, è già al pari di questa, tra l'altro. E partiamo proprio da questo concetto. Parliamo velocemente di prestazioni, perché di fatto ne abbiamo fatti di test, ovviamente, anche su questa Gigabyte, e abbiamo semplicemente appurato che il rispetto alle prestazioni che avete visto ieri nella recensione della 4090 è la stessa cosa. Cambia veramente di pochi FPS, a volte più, a volte meno, ma è esattamente uguale. Abbiamo visto anche che bene o male, avendo appunto la stessa scheda di base, anche le frequenze non variano sotto carico, quindi siamo sempre sui 2-7 quando la scheda è spinta, quando la scheda va, per cui chiaramente anche le prestazioni in gioco e in tutti gli applicativi che abbiamo provato cambiano di poco. Un per cento esatto e spaccato, non di più, quindi siamo praticamente sulla stessa barca. Quello che cambia, ovviamente, è tutto il resto. Si è fatto un gran parlare, da dopo gli unboxing, delle dimensioni. Ovviamente, ragazzi, io non sono propriamente piccolo, cioè, guardatela in confronto a me, ecco. È il busto di Lore, che anche lui comunque è un 83, ragazzi. Non è che di fianco a me sembra piccolo, ma non è proprio una persona piccola. Sono veramente gigantesche. E se abbiamo parlato bene delle temperature, la gestione delle temperature nella Founders, che comunque ha un sistema di dissipazione sì studiato, è tutto quello che volete, però è difficile che sia al pari di un design triventola con un corpo lamellare così grosso. E infatti cambiano le prestazioni, cambiano le temperature, di fatto. Queste qui sono studiate, sono state studiate almeno per le prime personalizzazioni che abbiamo visto arrivare sul mercato, per non sappiamo quale motivo così grandi. Allora, ci sono state delle teorie che giustificano questi design. Teorie a cui noi non crediamo e secondo noi sono false, però Igor Slab e Igor, ex capo di Tom Sartre Germania, una delle persone nel nostro settore con più autorità, ha fatto un articolo molto dubbio, dove diceva che questo design è, ed è il motivo per cui Invidia ha litigato con gli AIB, alla fine, visto i due anni di casino che ci sono stati, doveva essere utilizzato un Samsung 8 nanometri, lo stesso di Ampere, e quindi questi dissipatori fossero originariamente pensati per 600 watt originati da quel tipo di processo produttivo. Cosa impensabile perché un DAI di 8 nanometri con questi transistor, un foglio a 4, è oggettivamente impensabile, per quello non siamo d'accordo per nulla con quell'articolo, però ci sembra strano che non sia successo nulla. No, infatti. Perché, ora, lui, per le temperature c'è qualcosa che non va. È troppo, troppo spinto come design, infatti ne abbiamo parlato anche noi in questi giorni di prove abbastanza intense, perché effettivamente quello che si guadagna in prestazioni, in temperature, è qualcosa di veramente strano da vedere, soprattutto su un modello di fascia così alta e così potente, anche con frequenze così spinte come questa 90, perché sfioriamo in questa personalizzazione a malapena i 60 gradi, che per una scheda video con oltre 16.000 coda-core, con frequenze che vanno oltre i 2,5 GHz, è poco. Il punto è che a volte abbiamo visto ottime personalizzazioni che facevano 60-70 gradi all'inizio, ma non erano minimamente avanti prestazionalmente come questa scheda. Questa è una scheda che fa, come avete visto ieri, quasi il 70% gen-to-gen con la top della generazione prima. non è mai successo avere un upgrade così grosso a livello di performance bloccato a 60 gradi. È quello il fatto. Cioè è follia. Prima si aveva magari la 3080 in ottime personalizzazioni, che arrivava a 65, la vecchia TUF, che è un'ottima scheda, che arrivava a 65. E l'abbiamo detto anche in recensione, infatti. 65-68 gradi, era un'ottima scheda, e boom! Cioè comunque stava lì bella fresca, aveva i suoi 8.000 coda-core con noi. Questa ne ha 16.000, ragazzi. È una bella, ha 76 miliardi di transistor. È un mostro e consuma 420 watt, 430, e in DLSS, DLSS 3, arriva un poco più di 300. E qua con questo mostro arriva a 60 gradi. Infatti, questo è solo uno degli esempi perché lo abbiamo avuto sotto mano, ma abbiamo visto bene o male che è una cosa diffusa tra le personalizzazioni. Quindi sembra quasi che gli AIB, anche lì, insensato, perché fanno degli studi per sviluppare dissipatori nuovi, non è una cosa campata per aria, basata sulle specifiche che gli dà invidia, dice, oh cazzo, è gigantesca questa scheda, dobbiamo fare un dissipatore enorme. Faranno delle prove prima di svilupparli. Quindi sembra quasi che avessero paura che a livello consumo e livello prestazioni potessero scaldare molto di più. Cosa che di fatto non è stata. Perché comunque queste cose non si decidono due mesi prima. No, infatti. Si decidono un botto di tempo prima. Quindi a volte noi siamo qua a domandarci il perché di un design del genere e il perché di una temperatura che non va a 60 gradi. Noi abbiamo fatto lo stesso test che abbiamo fatto ieri con la 3090 Founders Edition. Ragazzi, abbiamo bloccato questa scheda a 200 Watt e esattamente come la Founders Edition va più di una 3090 Ti. Esatto, tranquillamente. a livello prestazionale. Il fatto è che con questa personalizzazione chiaramente c'è una diversità rispetto alla gestione delle ventole, delle temperature, rispetto alla Founders Edition. Questa cosa che mi stiamo per dire è abbastanza... Fa ridere, perché fa ridere, perché l'abbiamo testata e sotto carico nel test che facciamo per le temperature e quindi per decine di minuti sotto stress monitorando le temperature le ventole vanno e non vanno. Perché chiaramente il profilo in cui sono impostate le manda in 0 dB, quindi si stoppano nel momento in cui la scheda non è poi così calda. Quindi anche dal grafico, voi lo state vedendo, c'è la temperatura che a un certo punto arriva a 50 gradi e dice ok, 50 gradi e magari una bottarella di aria gliela do. E ricomincia a scendere. Però la temperatura non raggiunge un livello tale da tenere le ventole costantemente accese. E se voi pensate a una cosa del genere su 16.000 Cuda Core, su una scheda di questa potenza, è oggettivamente follia. Cioè siamo quasi, raggiungiamo in pieno lavoro, in 4K, su un Port Royale massimizzato, quasi una modalità fanless. Cioè io non so se vi rendete conto di quello che vi stiamo dicendo. Col video di ieri questa è un'altra cosa che dici, eh? E poi tu dici, era necessario fare una roba del genere. Ovviamente, questa è la prova che abbiamo fatto abbassando il power limit e mettendola a 200 Watt. Quindi non è un utilizzo reale, tra virgolette. È ovvio che quando facciamo il test di temperature a pieno carico, con il pieno vattaggio, vanno le ventole. Sì, ma va più di una 3090 Ti. È quello il fatto. Ci ha fatto molto ridere questa situazione un po' particolare. Tra l'altro poi si crea anche un problema, perché a me questo design piace molto esteticamente, e comunque è bello di questa Gigabyte. Effettivamente anche i LED che si creano questo effetto strobo con le ventole è molto carino. Il problema è che andando o non andando con lo 0 dB di fatto si accendono e si spengono e ti viene da guardare il PC perché sembra che c'è un problema che si spenta la scheda video e invece si fermano le ventole senza influenzare i LED e non te ne accorgi. Invece lì dici, no, che cazzo è successo? Quindi è una cavolata. Però il design, a parte quello, mi piace molto personalmente. Anche il backplate dietro, bello solido. Cioè, su questo punto di vista, peccato per la plastica davanti, su una scheda a 2000€, diciamo che si potevano impegnare un po' di più. Però comunque ottimo sotto questo punto di vista. Parlando appunto di design, visto che ve l'abbiamo descritta molto sommariamente, questa gigabyte è appunto quasi un 4 slot, per cui è una scheda veramente importante. Lo vedete anche dalle lamelle, magari le riprese che vi stiamo lasciando. È veramente gigantesca. Ha il sistema a tre ventole da 110 mm l'una, quindi già ventoline su una scheda video. Quasi le ventole del case. Esatto. Con la rotazione ovviamente alternata, quindi il classico sistema Width Force, che ormai conosciamo da anni per gigabyte. Ovviamente anche sulle personalizzazioni, il sistema di vapor chamber che poggia sulla GPU è stato ingrandito, ingrossato, quindi anche quello favorisce temperature migliori ovviamente. E qui ci passano qualcosa come 10 heat pipes per tutta la struttura lamellare. E ovviamente, come tutte le custom che avete visto, hanno dei buchi qua per fissare il supporto della GPU, perché, raga, pesa. Tirano fuori la bilancia? Vai. 2 kg è qualcosa. Beh, vuoi che vado a prendere la Founders? Siamo leggermente oltre i 2 kg, perché forse è questa la plastica da questo punto. Beh, ci sta. Forse non era il caso di aggiungere altro ferro, però di fatto appunto serve il reggischeda per non imbarcare il PCI o non distruggere tutto. Sono comunque 2 kg che pesano su una porticina. Esatto, si imbarca e tende ad andare giù dopo un po'. E ragazzi, siamo qua a parlare di un mostro senza senso e ovviamente io non capisco, perché avrei preferito un modello con magari che raggiungesse anche gli 80-85 gradi in full load, però compatto. Molto più piccolo. Magari con i V2, con i design V2 arriverà un modello del genere, però non capisco, anche perché veramente sotto DLSS 3 e DLSS 2, in gaming, come è stata pensata di operare questa scheda, siamo poco sopra i 300 W, non giustifica una roba del genere. Anche l'overclock che abbiamo fatto, ora ve lo diciamo, però non giustifica tutto. Tanto che potremmo quasi sperare in delle monoventole. Non esagerare. È troppo fredda e quindi dice, a me che mi frega di far andare le ventole. Cioè questa va più della 30-90 ti ha i fanless. Non stanno andando! Non perdere di un bar, fanless! Ogni tanto, ogni tanto la bottarella gliela dà. Ma sì, dai, quando arriviamo a 40 gradi, magari le faccio partire. Parlando appunto di overclock, abbiamo voluto spingerci, chiaramente, perché tutte le prove del caso prestazionali le abbiamo fatte, quindi perché non provare l'overclock, visto che di base, con fronto alla Founders Edition, sta comunque qualche grado sotto, di media, sotto sforzo. Dimmi, fighi, quanto è fastidioso. Ma è fastidiosissimo, guarda, sono... Mamma mia che fastidio! Arriva tre, ma starva! Abbiamo fatto un sacco di tentativi per tirarla oltre questi benedettissimi 3 GHz, ma non c'è niente da fare, porca pò! C'è andata di sfiga questo giro. Probabilmente c'è andata di sfiga col silicio, perché siamo riusciti a portarla a 2 GHz e 95 di picco, con un overclock delle memorie di quasi 2 GHz, quindi più 1800 MHz, che non è male assolutamente, per guadagnare circa un 10-15% a livello prestazionale. 10%. Ragazzi, su quello che è già questa, quindi dovete capire anche ulteriormente a questa cosa qua, sono dei livelli imbarazzanti di prestazioni. Non è inutile stare qua parlando, abbiamo già parlato un'ora a ieri, quindi a livello prestazionale non si discute. Per quanto riguarda i prezzi abbiamo visto, pena o male, anche se non abbiamo ufficialità, probabilmente la state vedendo in questo momento, mentre è partito il video, perché dalle 15 è partita anche la possibilità di acquistare le schede da oggi, si aggira sopra i 2000€ ovviamente, perché comunque è una personalizzazione, già il prezzo è 1940-50, quindi ovviamente sono anche quei 100-200€ in più, dipende dal modello che andate a cercare. Questa in questo caso non abbiamo il pricing, però si dovrebbe aggirare su quella cifra. In conclusione ragazzi, il funzionamento di questa scheda è assolutamente meraviglioso, perché non la sentite, non fa caldo, non fa nulla, cioè veramente ha prestazioni folli, e quindi assolutamente è positivo. Il problema è ovviamente il pricing, di cui abbiamo ampiamente parlato ieri, che è ovviamente un limite gigantesco di questa scheda 40-90, non parlando di quello di cui abbiamo parlato già sufficienza, ripetiamo, il problema principale rimangono le dimensioni, perché molti case non fitta una roba del genere. No, esatto, quindi quello è sempre parte del problema piattaforma, quindi tutto quello che ci dovete costruire attorno, perché non sono schede normali, non sono schede che vanno utilizzate in contesti normali, sono schede, come abbiamo già detto e ribadito più volte nel video di ieri, per pochissimi di voi, soprattutto queste 40-90. Poi a scalare vedremo quanto saranno più ottimizzate, quanto più scalabili, diciamo, per qualsiasi tipo di configurazione, queste assolutamente no. Però, ripeto, non capisco, non veramente al di là del fatto che comunque va accompagnata a un PC o un monitor di un livello importante, perché sono così grosse. Sinceramente non ce n'è il bisogno. Io di vedere performance il 20-30% sopra una 30-90 Ti in modalità 0 dB, è una roba che un po' dici, cazzo, cioè, ma che cosa sto facendo? Stiamo recensendo un modello fanless? È quello il problema. Secondo me si poteva fare qualcosa di meno impegnativo da questo punto di vista. Giusto per darvi un'idea, ma lo avete già visto anche dai grafici, quando abbiamo tirato in overclock il più possibile è arrivato a 65 gradi, 64-65 gradi di picco, quindi sono veramente dimensioni quasi ingiustificate che non riusciamo a capire il perché, e aspettiamo di vedere modelli magari più piccoli, perché sicuramente arriveranno a questo punto. È stato bello però fare overclock un pochettino, giocarci con le frequenze, giocare con sta scheda, un po' di più di quello che abbiamo fatto sulla Founders Edition, perché appunto le temperature lo permettevano anche un po' di più, anche se anche la Founders Edition non è che andasse su così tanto. Però la Founders Edition è nettamente più corta, cioè, quindi l'abbiamo già fatto vedere anche più volte, quindi questa cosa influisce anche sul giudizio. È ovvio che la Founders Edition non potete acquistarla tutti, perché è lì una versione limited, lo sappiamo, l'abbiamo capito, queste sono le schede che tutti si possono comprare e sono oggettivamente grosse. Quindi ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate voi di tutte queste personalizzazioni che sono disponibili da oggi, ovviamente insieme anche ai modelli Founders per i pochi che riusciranno a recuperarle sui vari siti online, queste saranno disponibili su tutti i vari store, quindi da Nexa, da K, tutti quelli che trovate disponibili solitamente, vedremo anche a che prezzi usciranno fuori, lo monitoreremo anche noi sui vari canali. Già Strachit è già attivo. È già attivissimo. Continuate a seguirci su tutti i canali qua sotto. E alla prossima, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.